Ciao ciao a tutti, sono tornata a casa. La prima cosa che abbiamo fatto è stata andare a prendere il nostro Pippo che era in pensione da un nostro amico che ha una specie di casolare, non neanche un casolare, una casa colonica con un grandissimo giardino dove ha fatto tante casette monolocali o bilocali per i cagnolini che ospita. Eccolo qua, è tornato insieme alla sua Peppa Pig, si sta facendo la cuccia sulla sua poltrona preferita, vedete come gongola, eh Pippo sei felice vero? Siamo molto contenti di questo nostro amico che si chiama Franco che appunto tiene a pensione i cagnolini perché li tratta veramente con tanto affetto, con tanto amore e non potevamo trovare un posto migliore anche perché davvero ha tantissimo verde, tantissimo spazio, è tenuto bene. Niente, d'ora in avanti sarà un po' più, oddio veramente sono stata sempre presente sul tubo anche da peschici, anche dal mare, però ecco erano video insomma non proprio perfetti, a parte che non è la perfezione, non fa il caso mio. E comunque niente, torno a pieno regime, ho già qualche haul da fare, una collaborazione che è stata una sorpresa per me e tante altre piccole notizie. Buona giornata a tutti, alla prossima e un abbraccio e un sorriso. Ciao ciao!